bene ragazzi come sempre Zan anche vi parla oggi sono qui per la semifinale Italia-Germania sempre in compagnia di Yo7 e niente speriamo di vincere con questa partita di Natale dai 35 metri Gigi Buffon ci arriva comunque iniziamo perché è nuvoloso perché piove Cristo di Dio perché piove dove cazzo giochiamo? L'Olivia Stadion seriamente dov'è che dovrebbero giocare? in qualche posto nella più remota ucraina penso in ogni caso manca De Rossi perché dovrebbe essere infortunato e Cecchie Lini perché dovrebbe aver recuperato per la partita ovviamente noi facciamo tutto in anticipo senza avere conferme bello è anche questo l'armata tedesca è un'area di rigore scuola sello la tena d'auspietti e poi il zil non è mezziturco ma sono tutti non tedeschi questo è il po' il po' il po' il po' tutti il gomers è spagnolo tutti mulatti col turco questo è ganese addirittura mesut c'è il fatto che si chiami mesut zamp Auschwitz-Birkenau non è in Germania Polonia coglione ma infatti chi ha detto che era in Germania ringraziamo hai detto tu a Yoma gli hai fatto tornare ad Auschwitz usando la Germania di Natale con la pace di Natale 1 a 0 1 a 0 bam 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 totò all'undicesimo bam 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 ringraziamo Marco che ha usato il fruito di Wikipedia no io ma la maestra Angela me la ricordo ancora guarda eh era l'elementare non c'ho studiata in Bizzania mia perché mi piaceva vedere i morti nooo no no e mi dispiace dirti che la maestra Angela sta vedendo questo lì la mia fallo non era buono e si va a vedere i morti comunque vediamo che c'è l'assenza di quel porco di Balotelli devo dire che non mi dispiace poi io non so cioè no non ha fatto nemmeno tantissimo schifo però il gol che si è mangiato l'armata nazista ancora in avanti Wodowski 1 a 1 che visto che palle l'invasione della penisola italica è iniziata senti venito nooo faccio palera barba lo ha detto ma non è un certo che mi segnala nel video no perchè la polizia di fascismo reati indiata davvero eh sì con la parola si suona dalle alpi fino alle colonne africane vincere vincere e vinceremo e vinceremo senti invece di sparare cazzate sul passato perchè non ti concentri a fare la telepronaca alla rai oppure come il nuovo tizio che hanno soldato con la voce di Vince di Fast & Furious a fare una piccola telepronaca attenzione buone parole per Di Natale e di Natale tenta la bocca e anche in Italia e il futuro non è ancora con la manina in Italia la manina e poi non è sciata no come cosa come per te due io mi sembra il suo lavoro per due due volte ma invece per me ma non posso fare cosa cosa cazzo fa no 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 vabbè vatti in vantaggio per piedi due minuti sentiva visto ma questa pioggia di merda che mi fa giocare male ah sì abbiamo la colpa la pioggia adesso senti puoi tornare a Birkena in qualsiasi momento che non è in Germania cazzo non c'è cosa c'entra con la Germania io ti ho detto che sei tedesco solo perché stai giocando con l'attenzione la tedesca capito che sono tedeschi tu sei tedesco no vieni da con cui voglio ringraziare Montolivo perché nel 2008 cercati di farci tornare a casa in ogni caso ha giocato meglio di Tiago Motto ah ma ci vuole poco meglio di Tiago Motto anche io gioco anche io gioco me beh insomma tenai una gamba dove vuoi andare no invece ho recuperato dall'infortunio alla caviglia eh se vuoi dire che tu sei l'unica persona al mondo e che ogni volta che fa qualcosa si fa male ah che poi non mi sono sbattato sbattato una caviglia giocando a calcio bensì al mare inciampando in una secca lui va al mare e si dispa si dispa si dispa si dispa in ogni caso vogliamo parlare che nella partita contro l'Inghilterra la roccia Barzagli si è fatta vedere eh più che altro l'Inghilterra non è mai arrivata in attacco vabbè le poche volte che c'è arrivata la roccia è arrivata beh c'è arrivata all'inizio e poi al novantesimo con rune che si avesse segnato davvero no no gli attentati che si facevano in Inghilterra no perché non stanno dai non la potevano vincere eh mamma mia di Natale veramente molto angolata difficile per Noglier che in ogni caso non so ha smanacciato lui non ho visto di Natale diciamo il più incisivo in questa nazionale vino adesso non so perché Brandelli si ostini a facciare la motel quando ha un bomb più incisivo cioè in questa serie perché si a parte il gol conto la Spagna non è che ha fatto esagerazioni eh si ma in ogni caso quando ha dovuto segnare ha segnato gli scommetto che se c'era lui il posto di Balotelli quando Pirlo gli ha servito eh si forse lì si le buttava dentro cioè inutile che diciamo il gol arriverà il gol arriverà esatto cioè il gol arriva se no ah eccolo il gol non cantare vittoria troppo presto la Alex non hai mica Lionel Messi per fare quei pallonetti solo il Lurido Gomez giovinco vuole talone per di Natale veramente spinto però non è fanno bene siamo ultime team così siamo proprio su ultime team per fare questi tiri cosa fa infazzito balzaretti ma chi si avverete all'autoball ma chi si recupera il suo errore iniziamo un pelino allargare ma la situazione è nella norma via attenzione l'apertura per Balzaretti che è morto cosa non è vero l'ho controllato attentamente fammi vedere di quanto millimetrico dai l'ho un ariano al 100% fratello di Kevin Prince perché non lo sapessi lo sapevano tutti l'ho scoperto solo io oggi comunque finisce il primo tempo diciamo equilibrata la partita per ora 2 a 2 Italia e Germania e non si può andare un'altra volta ai calci di rigore eh anche perché in queste partite non ci sono supplementari nei rigori onde per cui urge il parere il gol solo da una parte che deve essere la mia necessariamente attenzione cassano del tiro piazzato eh eh na miseria vabbè di nata cazzo vuole che ti potevo servire diciamo il piedino caldo pirlo il cross è intropenuto mamma mia Voloci ci stava arrivando attenzione ora barzagli in posto all'azione offensiva buona il pallone diamanti tiene palla cassano 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 ancora lui cassano un buona margine di tiro no no che fallo arriva dappertutto vediamo tirlo di nuovo dalla bandierina di nuovo dentro questa volta la chiella poi il colpo di testo ma noia ci arriva ora barzagli ancora una volta in posto all'azione offensiva perde palla hanno visto chi era sta per recuperare palla barzagli poi viene interrotto e ora vediamo podolski sta per partire podolski balzareti si frappone balzareti si frappone ma non riesce a fermarlo chi è lì nipote podolski podolski passa podolski nooo mamma mia l'avevo vista dentro luca spotolski bastardo barzagli giovinco pirlo diamanti diamanti col pallone cerca di portare sulla squadra il filtrante per di natale buono filtrante di natale di natale il titolo calcio di rigore rosso ma che rigore però questo è vero dai era rosso che ho visto hai fatto un fallo su non so che fare onestamente lì vabbè però va a far così cricli era lì nel 7 proprio ah se vai in culo a queste messe cioè se le faccio io prendi sempre pallati attenzione c'era un botteng quanto mazzerretti ora podolski sbaglia l'appoggio per mesut quindi ci mettono in piede attenzione si riparte diamanti per di natale diamanti cassano e cosa sto dicendo di natale cassano la palla torna fortunatamente la migliora sport ritorna nelle linee attenzione per guardare avvolgere centrocampo di natale avanzato di natale ancora lì tutto cassano sono aperto tutto tutto il tiro tutto no ciao perché ci si vede ci si vede ci si vede aeree ci si ci ci si vede data data 18 iardi cristo 18 iardi carica massimo potenza per dirlo scuola la si vede scuola rara sei rimasto lì con per la parma ricorda chi non chiamo via chiamo via come la pelata djk cassano no mario testo italiano 7 non c'è la linea ma non vallio attenzione scuola mario prese la germana germanica cristo non c'è un bel calcio se troppo scolato porca troppo alla conquista dell'europa poi segna sempre così che coglioni c'è se te lo sai sfruttare le occasioni cazzo sfrutto cristo preso una traversa sfrutto le palle di ronno sfrutto le palle di tuo nome che vinci se prendi le traverse ho capito non è che vinci se c'hai il buco del culo che tu hai ho bisogno anche saper sfruttare le proprie occasioni se non sfrutti niente il culo e basta ci si ecco la testa in montolino in squadra ma non c'è l'inizio montolino diamanti si va bene per cazzo fastidual guarda conti sensiva cristo marchesimo il passato pochettino voglia tutta cosa non sai tirare per testo ha fatto la pianta il culo ma coglioni non so tirare vuoi noia che è pagato diverso adesso vorremmo scrivere ma per te sono tutti ti pagati scusa se la iente sono tutti ti pagati per pagare diamanti 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 tira giro porco stavo per bestimilare me ne sono reso conto giusto in tempo mi sono fermato prima dello sproposito senti io direi che è ora di mettere dentro lui the black man yah 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 black man è ora della potenza quanto cassano è morto non è vero che è morto però ha sicuramente poca resistenza quindi dai play coglione la vedo dura per l'italia porca troia dio la roccia per diamanti per di natale bello sto passaggio diamanti bello ho l'amico caralino stanzito forco tu e in bologna e 10 dove sta senti la lisa giovanseri eddi 2 2 2 il cristo madonna no se si rifaio ma se mi fa ma che si rifaio christo ieri sera è perso 2 a 0 dai ma la carta come cristo ma se rifare posso perchè non 4 adesso negrotelli di merda negrotelli 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 di natale barco ticini ma non vuoi il coglione ma non vuoi farlo ma ti farò dopo adesso cristo madonna la carta del virus non è possibile portafoglio il modo di dirlo mo dentro pochettino pochettino min min quando negrotelli prima prende falla poi la porta per 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 se mi assi sarebbe tutto da rifare non sai no poche serie per se solo dicessi no la parola magica abbiamo un po' no abbiamo fatto il piatto per millenni la parola magica di amore inizia con la pp e finisce con l'uomo non è difficile da dire no no ticata la botta ha mai rotto il cazzo io ti distruggo un troppo in cima pochettino 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 la gente dice che non so giocare ma hai le botti di cago in dio hai le botti di culo che visto ma se tipo bestemmio in spagnolo eh io me cago in dio sono bestemmio spagnolo bisogna rifare il commento ma anche c'è dell'azienda spagnola che si guarda invece no tutto spagnolo riesce a votare il nostro fan numero uno chi nota i poter p2y non 23.9 no se anzi non possono vincere i nazi dai seriamente oh yeah ah kartoffel burstel berlino oh cristo madonna è chiamato difensore quello è saper difendere sai che ti dico io io bestemmio no è finita finita basta ciao ciao spero vi sia piaciuta di solito non ci fare un bel mi piace in caso iscrivetevi anche al canale di Lelox che trovate in descrizione e bella ragazzi ciao da zotto di bella porco è 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 Grazie a tutti